più di 140 morti 134 vittime erano studenti anzi erano solo bambini altrettanti sono stati feriti le cicatrici del corpo si rimargineranno forse quelle dell'anima magari mai il massacro di peshawar non è solo il massacro del fanatismo della brutalità e della violenza è il massacro della paura perché l'estremismo talebano sa bene che l'unica arma che non potranno mai sconfiggere è l'arma della cultura ecco perché la risposta non può essere la giustizia sommaria evocata da più parti in pakistan capisco la rabbia capisco il sentimento della vendetta dei familiari a loro mandiamo le nostre condoglianze e la nostra vicinanza ma lo stato del pakistano non può commissariare la democrazia né tanto meno sradicare lo stato di diritto non deve abbassarsi al loro livello il vero messaggio da inviare colleghi a chi fa sorgere la violenza a strumento di governo di propaganda e lavorare con il pakistan affinché per ogni bambino morto ci sia una nuova scuola nel paese affinché sia chiaro che lo spirito di malala vive e viverà per sempre nelle nostre coscienze grazie a tutti grazie a tutti